Grande successo per la prima edizione del concorso di bellezza Missora, città di Montesilvano, che è stato condotto dal pratolano Roberto Ruggero. Continua a portare un po' di prato alla peligne della sua valle in giro per la regione e per l'Italia e non solo. Eletta dunque Missora Letizia Santullo, 20 anni di Montesilvano, a condurre la chermessa assieme al pratolano Roberto Ruggero anche la giornalista Federica Peluffo. A giudicare le 18 ragazze selezionate per la tappa di Montesilvano, il vice sindaco Ottavio De Martinis, la scrittrice Rosa Giargiulio, l'autrice di Domenica Live Federica Pelagatti, gli imprenditori Carlo Andrea Falcone, Riccardo Di Carlo, Claudia Loi, Paolo Gatta, l'editore Gianluca Buccella, Alfonso Bellone, Alessandro Baldinetti, Lidia Di Santo e Lamia D'Amico. Applausi non solo per le Miss, con le fasce assegnate, Missora, Miss Eleganza, Miss Cinema, Miss Sorriso e Miss Modella, ma anche per il pratolano Roberto Ruggero, a cui è stata affidata la conduzione dell'evento.